Esercitazione stamattina dei vigili del fuoco alla casa di riposo di Riva del Garda. Una manovra che ha permesso di testare l'efficienza delle attrezzature e l'operatività degli operatori in un ambiente protetto come il luogo che ospita gli anziani. Esercitazione oggi alla casa di riposo di Riva del Garda. Cos'è successo? Niente, abbiamo simulato scenari contemporanei, incendio nel locale interrato, soccorso persona con rianimazione cardiopolmonare ed evacuazione di una persona cosciente al terzo piano. Un'esercitazione propedeutica a un'eventuale emergenza? Sì, esercitazione che annualmente vede impegnata la casa di riposo proprio per vedere i sistemi e le procedure che loro mettono in atto qualora si dovesse verificare un incendio o un'emergenza di qualsiasi tipo. Avete potuto constatare delle criticità o è andato tutto bene? Le criticità ci sono sempre, le procedure non prevedono mai in toto quella che è la casistica di un intervento, però sì, il sistema è collaudato e funziona. È un'operazione che fate più o meno tutti gli anni? Sì, tutti gli anni. Ovviamente questo richiede tanto impegno, tante ore uomo, un dispiegamento dei mezzi in gente e quindi va pianificato e programmato nel tempo. Quante persone avete mobilitato oggi? Circa 15 vigili del fuoco con tre mezzi, di cui due pesanti, più il personale della casa di riposo. E l'operazione come si è svolta più o meno? Si è svolta che il capo squadra si è messo subito in contatto con il responsabile della sicurezza, una figura che esiste proprio preposta, che accoglie i pompieri quando arrivano e spiega loro la situazione, la struttura e gli indirizza da dove c'è necessità. E poi avete fatto proprio un'evacuazione dei piani? Sì, non di tutti i pazienti, sono dei genti in corso, quindi solo alcuni pazienti sono stati coinvolti, gli altri sono rimasti indisturbati.